Si sono dati appuntamento al tramonto per scoprire le bellezze del Parco Dubini. Oltre 50 le persone che hanno accettato l'invito dell'Associazione WWF e dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi a prendere parte all'Alberitivo, un'eco passeggiata alla scoperta della natura. Un parco, quello del Dubini, scrigno di biodiversità floristica e arborea, ma anche faunistica. Un percorso lungo i viali dove partecipanti hanno potuto ammirare da vicino le specie arboree del parco, dal cedro del Libano, simbolo di nobiltà, potenza e ricchezza ai maestosi pini, le cui foglie a forma d'ago sono considerate simbolo della felicità coniugale. Alle roverelle, agli eucaliptus, alle robinie, ai tigli. Da sempre il WWF, l'Associazione Guardia Boschi e le altre associazioni ambientaliste hanno visto in questo parco Dubini un patrimonio, un bene comune, un patrimonio della città. Un'area verde purtroppo è stata massacrata da un intervento scellerato degli anni passati, ma che finalmente, grazie anche alla sensibilità della direzione dell'Aspe, è tornato fruibile per i cittadini. Quindi questo è solo l'inizio per noi. Vogliamo fare conoscere ai cittadini caltani sette non soltanto la bellezza di questo posto, il suo valore storico, il suo valore anche botanico per le essenze che vi sono. Quindi da parte del WWF sicuramente il parco Dubini sarà un piccolo grande gioiello di questo territorio. La nostra idea è quella di aprire le porte, nonché il cancello di questo bellissimo parco, ai bambini di Caltanissetta e dei paesi limitrofi, perché è un piccolo polmone verde che è giusto fare conoscere e così anche valorizzare a tutti i cittadini e anche a quelli più piccoli. Si parla tanto di educazione ambientale nelle scuole, fin dalla scuola materna, media, superiore, e quindi è giusto che anche qui a Caltanissetta si facciano questi percorsi.